Hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere l'unboxing di Euphoria Ignorance is Bliss, la prima espansione per il gioco Euphoria Build a Better Dystopia, gioco della Stonemeyer Games. Questa espansione però non è stata fatta da Jamie Stegmaier che è l'autore del gioco in questione, del gioco base, ma da altri autori tra cui Morten Morad Pedersen che è quello che ha realizzato l'automa per Scythe. Ovviamente c'è sempre la supervisione di Jamie. Ok, diamo un'occhiata alla scatola. Tutto l'elenco dei componentini. Piccolina, carina, ci piace, ma tanto molto probabilmente tutti questi componenti entreranno nella scatola base. E adesso apriamola. Ok. Allora, era un po' che non litigavo con il cellophane, ho perso un po' di smalto. Guarda la miseria. No, tu non... Qua, qua. Qui lo so che tu sei più... Non è vero. Era meglio continuare da qui che l'avevo già un po' ammorbidito. Ok. Tu non hai visto niente. E dai, ecco qua. Ole. Via, via, via. Ecco qua. E andiamo ad aprire. E... Allora, il regolamento per, diciamo, le regole aggiuntive base per tutti i componenti che ci sono in questa nuova espansione. Questo invece è il regolamento per l'automa, se si gioca in singolo giocatore. Non so se l'automa si può aggiungere anche in... con un numero diverso di giocatori, suppongo di sì. conoscendo comunque gli altri automa che ha fatto Morrad. Sì, Morrad. Morrad Morten Pedersen. Comunque è un nome masticoso. È più lungo il regolamento per l'automa che quello di Euphoria. Ok, allora, questi sono degli stickers essenzialmente che si possono mettere sui tracciati tunnel sul tabellone base si possono incollare perché servono essenzialmente per partite con un numero diverso di giocatori. Ti indica dove far partire l'omino che scava i tunnel. Questa è una cosa che si è scoperta nel tempo per rendere il gioco un pochino più equilibrato. questo anzi queste sono le plance dei giocatori con i colori dei giocatori dove si possono tenere le stelle le risorse le merci qui i lavoratori e qui si può tenere traccia di conoscenza anzi consapevolezza conoscenza e il morale invece che farlo sul tabellone in modo che tutti quanti hanno una prima occhiata riescono a vedere quali sono i propri valori. Non lo so se questa cosa mi piace mi piaceva l'idea di avere tutto sul tabellone e poter guardare un po' tutte le stat diciamo degli altri giocatori piuttosto che dover andare adesso a guardare sulle plance. Ora questa è una carta che si aggiunge sul tabellone ecco qua dove essenzialmente ci sono i costi quando si riprendono i lavoratori ce la facciamo intanto spiega ecco come preparare il tabellone il tabellone il tabellone e le plance dei giocatori e questa invece si mette sul tabellone e indica una piccola regola aggiuntiva essenzialmente che si deve pagare un cuore per lavoratore quando se ne piazza uno oltre il primo perché in euforia se tu hai dei lavoratori con numeri uguali puoi fare essenzialmente dei turni back to back uno dietro l'altro ma se lo fai devi pagare un cuore per ognuno questa è la plancia del mercato che è una delle novità dove essenzialmente vengono messe le carte artefatto e possono essere acquistate o gratuitamente oppure pagando delle risorse questo per ridurre un pochino la casualità della pesca degli artefatti qui invece abbiamo i nuovi mercati e sono sicuro che saranno esilaranti come i primi nei nomi le immagini sono sicuramente molto belle molto carine come quelle del del gioco base proviamo a defustellarne uno perfetto non oppone resistenza né esce troppo facilmente aspetta com'è questa i terreni dell'agorafobia la prigione del dilemma bellissimo ah questo è bellissimo la sala concerti dei degli armoniosi disaccordi fantastico bellissimo ok e queste sono tutte le altre ce n'è un'altra qui sacro santa bustina ce n'è una sola ah no ok ci sono anche queste ok queste sono le mega risorsone perché invece di utilizzare quelle tessere come moltiplicatori per le risorse dove io ce ne metto una e se non mi ricordo male ne rappresenta cinque hanno fatto queste mega risorsone giganterrime che rappresentano cinque risorse e sono sicuramente riconoscibili rispetto alle altre perché sono tipo tre volte più grandi questa per l'energia questa per il cibo la mega arancia o pomodoro non lo so cos'è forse è un'arancia poi c'è l'acqua e qui c'è la gioia perché delle varie fazioni che ci sono in questo gioco la fazione degli Icariti si fa di gioia ok e questi sono i nuovi mazzi di carte ora questi nuovi mazzi di carte essenzialmente vengono sostituiti a quelli del gioco base non vengono integrate le carte speravo davvero venissero integrate invece che utilizzarle da sole ma vedremo effettivamente come cambierà il gioco anche il fatto del mercato la plancia mercato si può utilizzare solo se si utilizza l'espansione anche questo vedremo cosa comporterà e se si potrà comunque in qualche modo integrare la meccanica dell'eliminare un pochino la casualità della pesca vediamoci queste carte un po' più da vicino eccole qua questi sono i nuovi personaggi delle fazioni e ce ne sono alcuni che non hanno fazione sono senza fazione e essenzialmente hanno dei poteri molto molto più forti eccoli che sono questi qui factionless infatti dice hanno dei poteri molto molto forti però ovviamente non si beneficia dei vantaggi di cui beneficiano le altre fazioni apriamo anche queste questo invece c'è l'apertura facilitata per i bimbi o per i flabio ok ok i cariti sono molto curioso di queste nuove abilità oh ecco e queste invece sono le carte per l'automa molto simili a quelle di progetto Gaia funzionano allo stesso modo dove si mettono così una a fianco all'altra dove puoi anche vedere quello che potrebbe succedere nei round successivi questo è sempre parte dell'automa e questo è anche la scheda di riferimento per l'automa e questo era l'unboxing della prima espansione di Euphoria Euphoria Ignorance is Bliss e questo è un po' di riferimento per l'automa e questo è un po' di riferimento